Ciao e benvenuti su ClipNotes. Io sono Andrea e questo è il secondo episodio della miniserie su Dante. Oggi analizzeremo due personaggi che Dante incontra nell'inferno, Paolo e Francesca. Chi di noi non conosce la storia di Paolo e Francesca, due delle anime più famose dell'inferno? A raccontarci la loro storia è proprio Dante. O meglio, la racconta Francesca e Dante mette per iscritto le sue parole. La storia dei due innamorati è molto famosa e Dante non se l'è inventata. Paolo e Francesca sono esistiti davvero. Aspettate che vi racconto la loro storia. Siamo in Romagna e ci sono due famiglie che si scontrano. I da Polenta, da Ravenna, e i Malatesta, da Rimini. Immaginate una storia tipo alla Romeo e Giulietta, soltanto che Romeo e Giulietta verrà scritto qualche anno dopo. Le due famiglie decidono di combinare un matrimonio per mettere fine a questa faida. I da Polenta portano a Lantare la loro figlia Francesca, invece i Malatesta il loro figlio Gianciotto. Gianciotto ha anche un fratello, Paolo, del quale Francesca si invaghi profondamente. I due stavano un giorno leggendo la storia di Lancillotto e Ginevra. Lancillotto, grandioso cavaliere della tavola rotonda, e Ginevra, moglie di Re Artù, i quali erano amanti. Ecco che allora tra i due scappò un bacio. Loro non andarono più avanti nella lettura della storia di Lancillotto e Ginevra, ma iniziarono a vivere il loro amore. Un giorno però Gianciotto, rincasando, li trovò e li colse sul fatto. Per questo motivo, colpito da un attacco d'ira, altri invece dicono per motivi politici, Gianciotto decise di uccidere la moglie e il fratello. Secondo alcuni critici, in realtà Francesca doveva andare in sposa a Paolo e poi lo sposo fu scambiato all'ultimo momento e all'altare Francesca si ritrovò con a fianco Gianciotto. In realtà le cose non possono essere andate così, perché Paolo era già sposato e anche da diversi anni. Dante incontra queste anime mentre passa accanto a un vortice d'aria, un vortice d'aria fortissimo. All'interno di questo vortice ci sono i lussuriosi, coloro che peccarono in vita di lussuria e si fecero trainare da questa. Per questo motivo, all'inferno, essi sono trainati, sono spostati da questa forte corrente d'aria. Virgilio dice a Dante allora di fermare due anime e di chiedergli della loro storia. Paolo e Francesca dunque si staccano un po' da questo turbine e si affiancano a Dante. Francesca racconta la loro storia, mentre Paolo continua sempre e inesorabilmente a piangere. Leggiamo adesso quello che dice Francesca. Noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse. Soli eravamo, esanza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso. Ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia di viso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più, non vi leggemmo avante. Come già raccontato, i due furono poi scoperti da Gianciotto, i quali li uccise. Loro finirono nel girone dei lussuriosi, ma il fratello di Paolo finì molto più giù nell'inferno. Lui si trova nella Caina, la prima delle quattro zone in cui è diviso il nono cerchio dell'inferno, all'interno del quale troviamo i traditori. Nella Caina, in maniera particolare, i traditori dei parenti. Dice proprio Francesca, Caina attende chi a vita ci spense. Sappiamo bene tutti che Dante è il primo ad attaccare, in certi casi anche furiosamente, le anime dell'inferno. Non so se vi ricordate Filippo Argenti, che Dante colpisce con un calce e lo rigetta nel fiume. Ecco che però Dante si pone in maniera diversa rispetto a Paolo e Francesca. I due sono amanti. Il loro è un amore extraconiugale, ma Dante sembra che non interessi. Dante ha una strana concezione dell'amore, perché a lui va bene l'adulterio, finché non si giace insieme, finché non intercorrono rapporti sessuali. È abbastanza strana la sua visione dell'amore. E leggendo alcune delle sue poesie, oggi noi rimarremo abbastanza stupiti, perché le leggeremmo in maniera antitetica al mondo moderno, al nostro oggi. Ad esempio, se noi siamo invaghiti di una persona e vediamo che è in rapporti un po' troppo stretti con qualcun altro, siamo colpiti dalla gelosia. Invece Dante, all'interno della vita nuova, scrive qualcosa di ben diverso. Tanto gentile e tanto onesta pare. La donna mia, quando è l'altro, i saluta. Cogne lingua de ven, tremando muta. E gli occhi non l'ardiscono di guardare. Questo episodio termina qui. Se avete bisogno di altri appunti, potete cercare sul nostro sito, clipnotes.it. E inoltre, vi invitiamo a seguire tutti i nostri social, in maniera particolare Instagram e TikTok. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti